La presenza all'interno della comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno però fatto maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative. Si è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penare, di utilizzarlo con maggiore frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione. Il nuovo canone 1398 comprende a questo riguardo le azioni compiute non solo da parte di chierici riservate alla congregazione della rotina della fede, ma anche i reati di questo genere commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano ruoli nella Chiesa, così come eventuali condotte simili con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità. Grazie. 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 Grazie.